Damascus rappresenta il risultato di una lunga ricerca nel campo degli effetti estetici e cromatici, ottenibili dalle combinazioni di prodotti e colori diversi. Per ottenere questo effetto sono necessari un rullo a pello corto, una spugna naturale, un tampone decorativo in pelle sintetica, un pennello per profilare bordi e angoli. Prodotti, fondo, Damascus base lucida, finitura, Damascus pugnatura a finire. Prima di applicare i prodotti, verificare che la superficie sia liscia, pulita, asciutta, priva di polvere o crepe. Su supporti nuovi o molto assorbenti, utilizzare un adeguato prodotto di fondo. Diluire Damascus base lucida fino al 10% in volume con acqua e mescolare bene. Applicare una mano di prodotto nel colore desiderato con il rullo a pello corto, profilando i bordi e gli angoli col pennello. Mentre il prodotto è ancora bagnato, utilizzare lo stesso rullo per orientare le rullate tutte nello stesso senso. Applicare una seconda mano di Damascus base lucida nello stesso colore, seguendo le stesse modalità della prima. Dopo l'applicazione di Damascus base lucida, il supporto deve presentare un colore uniforme prima di applicare la finitura. Prima di applicare Damascus spugnatura a finire, diluirla al 50% in volume con acqua e mescolare accuratamente. Dopo aver caricato il prodotto sulla spugna naturale, scaricarne l'eccedenza su un panno assorbente. Distribuire Damascus spugnatura a finire nel colore desiderato con una spugna naturale in maniera casuale. Per distribuire il prodotto è inoltre possibile utilizzare nello stesso modo un tampone decorativo in pelle sintetica al posto della spugna naturale. Nelle tinte chiare, Damascus spugnatura a finire, si presenta nel colore bianco. Damascus può essere facilmente pulito con una spugna morbida, utilizzando acqua addizionata con i comuni saponi e detergenti neutri. Damascus combina in maniera raffinata l'effetto lucido del fondo a quello opaco della finitura. Un effetto decorativo che si distingue per la propria eleganza e raffinatezza. Per concludere, una sintesi delle fasi principali per ottenere questa finitura. Attrezzatura Attrezzatura Un rullo a pelo corto Una spugna naturale Un tampone decorativo in pelle sintetica Un pennello per profilare bordi e angoli Prodotti Fondo Damascus base lucida Finitura Damascus spugnatura a finire Ciclo di applicazione Due mani di Damascus base lucida attendendo 6 ore tra l'una e l'altra Essicazione 6 ore Una mano di Damascus spugnatura a finire Uniquid Un Elaine Uniquid Un Alicia Un egent spreadsheet Unreek Un馴